e che poi purtroppo c'era pure in mente quella scena che schifo è veramente sorprendente ma non era una erano tantissime le scene un'esacerazione però immagina quale porca che l'hanno visto e che magari l'hanno pure sognato ma non scusi scusi signora lei che mette a posto signora scusi lei non sono una signora una che dice scamarcio è buono mi sento male soprattutto oggi voglio applaudire che cazzo gli applaudite scusatemi